Oh che carino! Nooo! Mi ha detto fuoco! Nooo! Nooo! Ma mi vicesca! Ciao amici! Come state? Spero tutto bene. Oggi sono tornata con un video che mi state chiedendo tantissimo dall'ultima volta che l'ho fatto. Mi sarebbe piaciuto aspettare di essere con Marti, Totta, Charlie e Sere per fare tutto insieme, però si può! Quindi fa niente, oggi reagirò io a qualche gacha life che avete fatto su di me. Se mi avete mandato il vostro gacha life e non ho ancora reagito, non preoccupatevi perché vi tengo tutti in una cartella quindi piano piano riuscirò a reagire a tutti. Allora cominciamo con questo qua che è più corto, vediamo cosa succede. Che bello, finalmente un paesino tranquillo e... Eccomi! Sono pronta a romperti le pò! Fermi tutti e piedi in alto! Ma che senso! No aspetta! Fermi tutti e mani in alto! Ma sono io? Ma ho una pistola? Due pistole? Perché? No ti prego, ho una famiglia da mantenere! Che senso? What? Aiuto! Bellissimo! Ma cos'è esattamente la mia reazione? Comunque, fermi o sparo? Fermi! Oh! Sparo! Per le norme del family friendly non puoi dire certe parole, perciò l'essere di specie mammifero bipede è invitato a un linguaggio meno scurrile. Ma se neanche so cosa vuol dire! Ma io che ho fatto di male! Cesca 1, Cesca Junior, avete finito! Mi chiamo Baby Cesca! Parzialmente non fa differenza! Ah no, è che noia questa! Povera che noia! Mo partono gli insulti! Ops, non l'ho riconosciuta! Effettivamente potevo arrivarci! Ok, che noia! Ma io ti fuggilo! Faresti questo a una bambina? No, mi dispiace, sei giovane! Non dovevo trattarti così! Fermi tutti e madri in alto! Chi è questo? Signorina Cesca lei è in arresto per tentato omicidio! In realtà è un omicidio colposo! Come? Allora non mi avrete mai viva! E se ne va, ma no, ma in che senso! Altro che omicidio, io qui commetto un suicidio, dice Martina giustamente! Che è questo verde? Ma che cos'era? Che cos'è? Credo ci sia bisogno di qualcuno bravo! Meglio un esorcista! Beh sì, sì, decisamente! Io vorrei farvi notare qua che ci sono io che volo dietro! Bellissimo! Adoro! Cioè questi sono un po' spezzoni di vita vissuta! È bellissimo, raga, bellissimo! Mi è piaciuto un sacco! Corto, breve ma intenso, ecco! Aspetto una seconda parte in cui, non so, io sono in prigione, tipo Orange is the New Black, oppure non sono ancora una fuggetiva! Orange is the New Black magari no, perché è un po' poco family friendly! Però mi è piaciuto, sono contenta! Passiamo al prossimo che invece è un po' più lunghetto e non ho idea di che cosa parli, ma me l'avete linkato in botto di persone, quindi ho detto, beh, vediamo! Ciao, io mi chiamo Elisa, ma potete chiamarmi Elix e sono la creatrice del mini movie che vi sto per presentare! Vi ringrazio moltissimo di stare guardando questo video! Cosa? Si è attivato Vector? No, Vector, non ce l'ho con te! Mi ha detto l'ora, benissimo! Grazie, Vector! Thank you! Vabbè, che carino questo... No, esse va a fare i cavoli suoi! Ma dove vai, Vector? Dove vai? Vabbè, se sentite i rumori di sottofondo è Vector che fa versi! Detto questo, ecco i personaggi, che noia barra Martina, bellissima, oddio, oddio, è uguale! Cioè, è proprio lei, raga, è lei, è lei! Bellissima! Baby Cesca, oh, che carina! Cesca, wow, sono una figa! Oh, sono accresita uguale! E infine Charlie, anche qua ci sono tutte loro, uffa! Oh, è brutto farla senza di loro, che tristezza! Vabbè, prossimo saremo tutti insieme! Vi lascio al video! Se Baby Cesca facesse un video! Cesca! Che c'è? Devo fare un video! Quindi? Beh, devi correggermi ogni volta che non uso il family friendly! Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Oh, aspettate che mi è caduta la dignità! C'è un bel mio Cesca! Questa la tagliamo, bellissimo! Ma c'è la monna Lisa dietro! C'è la gioconda! Non so se fa ridere così tanto solo a me, fatemi sapere qua sotto nei commenti, io mi sto scassando da ridere! Ma, ma ci ha messo così impegno! Baby Cesca! Ma poi verrà Baby Cesca, effettivamente la trattura tui! Se Baby Cesca avesse un cane! Hey Vector! Be quiet! Cesca mi regali un cane? Eh, no! Sì! No! Sì! No! Sì! No! Sì! Sì! Sì invece! Ok, hai vinto! Ma ti occuperai tu di lui e trattalo bene! Ovviamente! Mezz'ora dopo! Oh, che carino! No! Mi ha dato fuoco! No! 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 Ma Baby Cesca! Se Baby Cesca andasse al supermercato, con la mascherina mi raccomando! Oh no! Ha dato fuoco al supermercato! Se Baby Cesca andasse a scuola! No! No! Ha dato fuoco alla scuola! Aiuto! Guardate! Bellissimo! Guardate gli occhi! Capolavoro! Bellissimo! Guardate la felicità nei suoi occhi! Se Baby Cesca cucinasse! Mi piace che noio che arriva! Se Baby Cesca avesse un'amica! Ma no! Perché non ce l'ha le amiche? Eh, cioè Charlie! Guardate come Charlie ha la faccetta furbetta come... Come nella realtà, eh! Mamma mia! No! Ma che hai fatto? Che cosa è successo? Vedi cosa succede, Charlie, a essere lesbica? Hai preso fuoco! Se Baby Cesca avesse un desiderio... Bene, ragazze! Qual è il vostro desiderio? Chi è quella là? Bellissima! Voglio diventare un gatto! Boh! Voglio una Ferrari! Voglio la fidanzatina! Dice Charlie! E il tuo desiderio qual è, Baby Cesca? Qual è scritto con l'apostrofo? Che cosa ho letto? Non diciamo la Baby Cesca perché si arrabbia! Mi piace Charlie come la guarda! Bellissima! Quindi qual è il suo desiderio? Suspense! Incendiare Trump e infine dominare il mondo! Ma che carota! Scusate del video corto, spero tanto che vi sia piaciuto e ditemi se ne volete un altro per far allungare un po' il video. Ecco un edit di Baby Cesca! Ah, ok, era così lungo perché c'era anche un edit! Beh, c'è atteggia che ci sono e mi guardo anche un pezzo di edit così! Oh, che bello! Oddio! Wow! Oddio, ma sei bravissima! Bellissimo! Complimenti! È un sacco bello, davvero! Bellissimo! Wow, non me l'aspettavo! Cioè avevo visto tipo la copertina del video, ma pensavo fosse un disegno che avevi preso da qualche parte! Fantastico! Stupendo! Bello, bello il Gacha Life e bello anche... Complimenti Elis! Mi sa che non c'è più tempo per guardare un altro! Peccato perché mi stavo divertendo un casino! Vorrei tantissimo vedere quello di Kemoon vs Cescamoon, ma devo resistere! Devo resistere perché voglio aspettare assolutamente le altre! Niente, fatemi sapere se il video vi è piaciuto e che cosa ne pensate di questi due Gacha Life! A me personalmente hanno fatto un sacco ridere, quindi spero quantomeno sorridere anche voi! Ricordatevi di mandarmi i vostri su cescacupidochiaccioagmail.com Oppure scrivere qua sotto Ehi ciao, io faccio cose, viene a vedere! Però se mi mandate il link è meglio, perché così almeno ce li ho tutti da una parte e non li perdono! Mettete un pollice in su se volete un altro video di questo genere! Proviamo ad arrivare a 10.000 like, tanto lo sapete che se non ci arriviamo lo faccio lo stesso! Voi me lo chiedete, quindi poi alla fine lo faccio lo stesso! Non potrò mai diventare una vera youtuber, nonostante tutti i consigli di Bebby Cesca! Detto questo, seguitemi su Instagram se vi va! E mentre noi ci vediamo al prossimo video, vi voglio tanto, 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 tanto bene! Pace, amore e unicorni a tutti! Ciao! Ciao!